Nove titoli in programma per un cartellone di alto profilo con una selezione delle migliori produzioni nazionali. Ai nastri di partenza la stagione 2015-2016 del Teatro Signorelli di Cortona. Una rilettura della classicità in chiave contemporanea affidata ad artisti riconosciuti come un punto di riferimento dello spettacolo dal vivo, tra prosa e danza. Questo il minimo comune denominatore della programmazione, frutto della collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, Comune di Cortona e Accademia degli Arditi. Inaugurazione lunedì 2 novembre alle 21.15. Cominciamo con un sarto per signora, un feido, con un grandissimo interprete che è Emilio Solfrizi. Continuiamo con uno spettacolo di danza di una delle migliori compagnie italiane e una delle più importanti coreografe in Italia che è Monica Casadei. Continuiamo con Franco Baranciaroli, con un Pirandello, un Enrico IV che ci parla appunto di tematiche anche estremamente attuali a noi molto vicine. Nel quarantesimo della morte di Pierpaolo Pasolini anche la programmazione del Teatro Signorelli di Cortona ha deciso di ricordarne l'opera e la poetica con la proposta firmata da Giorgio Gallione. Giovedì 21 e venerdì 22 gennaio Neri Marco Re sarà il protagonista di Quello che non ho, uno spettacolo che unisce Pasolini e De Andrè per interrogarsi sulle dinamiche sociali e culturali dei nostri giorni. Il palcoscenico del Signorelli al centro anche delle pagine del periodico Il Teatro e il Mondo, edito da Fondazione Toscana Ollus e diretto da Curzio Maltese. Nel numero di giugno si parla del Teatro Signorelli di Cortona, è un omaggio che noi facciamo a una delle città più importanti non solo della Toscana ma anche dell'Italia.